L'Istituto Pascal di Foggia ha organizzato anche quest'anno il Festival dell'Economia Fotogrammi dal Futuro, rivolto agli alunni dell'ultimo biennio degli istituti scolastici superiori di Foggia alla cittadinanza tutta. L'evento, patrocinato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, si è svolto presso Palazzo Dogana. Alla sua seconda edizione, il festival è incentrato sul tema dell'arte nelle sue varie espressioni. Il territorio è ricco di storie di arte che devono avere un posto e un ruolo importante nella cultura e nel vissuto di ognuno. Ad iniziare dalla scuola e dalle nuove generazioni, bisogna cercare di diffondere conoscenze e idee che rivelino oltre al passato delle origini, anche le capacità e le testimonianze del presente. Non solo la scuola, ma le istituzioni hanno un ruolo importante e decisivo per la formazione e lo sviluppo di idee e progetti che realizzino un modello di crescita socio-economica diretta a valorizzare quanto di significativo è stato realizzato e che è doveroso continuare a realizzare. Dunque è uno spaccato sull'aspetto economico del nostro indirizzo, della nostra articolazione AFM e SIA con una serie di illustri ospiti che ci racconteranno l'aspetto economico, sociale e dello spettacolo che può derivare da studi di tal fattura.